E ciascuno, nel nostro proprio, nel nostro impegno, nel nostro lavoro, può esprimere amare gli altri. Sì, lo può esprimere, con la pratica, con l'azione, non con le parole. Basta, le parole non risolvono i problemi. E' l'azione, è l'amore che risolve i problemi del cuore e risolve anche il problema della salute. Ci migliora amare il prossimo. Fratelli, a questo punto io dico, facciamo la prova, cerchiamo di metterci in cammino. Sappiamo incontrare Dio, sappiamo impossessarci di Dio, sappiamo tenerlo stretto dentro al nostro cuore, sappiamo donarlo anche agli altri. E vedrete che la nostra vita cambia totalmente. Diventiamo migliori, diventiamo più buoni, già entrando in casa, quando abbiamo sentimenti di amore. Cambia tutta l'atmosfera nella nostra famiglia, anche se siamo stanchi, anche se abbiamo tanti problemi. Con quell'amore si riscalda l'ambiente, con quell'amore entra Gesù. E la calma, la pace, la pietre sarà dentro ai nostri cuori, dentro alle nostre famiglie. E la possiamo, sì, la possiamo donare anche agli altri. Grazie. Grazie. Grazie.